Lo Stauffer Center for Strings apre le porte al pubblico con la prima edizione dello Stauffer Summer Music Festival in cartellone dall'8 al 16 luglio nel giardino dell'Accademia Cremonese, rassegna internazionale d'ingresso libero su prenotazione che celebra le diverse culture musicali del mondo attraverso gli strumenti ad arco. Con l'occasione il pubblico potrà visitare il Palazzo Stauffer recentemente restaurato attraverso le visite guidate proposte dal FAI, Fondambiente Italiano, prima di ogni concerto. Una grande voglia di aprire il palazzo nuovamente e condividere questi luoghi splendidi con la cittadinanza tutta di Cremona e anche con un pubblico che siamo sicuri ci raggiungerà da fuori. Un'occasione importante per vivere quella che tutto l'anno è un'accademia musicale ma che invece si trasformerà in una splendida location per un festival davvero internazionale. Sul palco si alterneranno giovani ma talentuosi artisti come il violinista Giuseppe Gibboni, vincitore del concorso Paganini 2021, e star dell'archetto come Alexei Gudesman, violinista dalla tecnica sorprendente che intreccia musica accolta e popolare. Il programma completo dei sei concerti è disponibile sul sito web della Stauffer. Vuole da una parte innovare, stupire con un programma musicale inusuale, poco conosciuto. Partiamo con un concerto di musica contemporanea e finiremo con degli splendidi concerti dedicati alle musiche, alle culture musicali del Medio Oriente e dell'Asia. Quindi davvero spaziamo in lungo e largo sui linguaggi musicali e lo facciamo con docenti dell'Accademia Stauffer, sia artisti internazionali che ci raggiungono per questa rassegna e alcuni dei nostri appunto migliori allievi ed ex allievi. La fondazione Stauffer dedica il festival alla memoria di Andrea Mosconi, personalità illustre della scena culturale cremonese, protagonista con il maestro Accardo della nascita del progetto dell'Accademia.